Io amo questo mestiere, appena ho avuto l'opportunità di avere questo lavoro l'ho accettato con grande entusiasmo perché è una piazza importante, una piazza che merita tante soddisfazioni e quindi sono venuto subito. È un momento delicato, un momento difficile e brutto, il calcio senza il sostegno dei tifosi ovviamente non è lo stesso però purtroppo queste sono le regole, dobbiamo accettarle, dobbiamo farci forza, cercare di andare avanti e essere dei risultati. Questa è stata sostanzialmente la scelta, stimiamo l'uomo, stimiamo la persona e soprattutto cercavamo in condivisione con il Presidente e con il Direttore Sportivo una persona con grande personalità che potesse aumentare e riaumentare l'autostima dei ragazzi per dargli grossa motivazione e grossa determinazione per affrontare le partite. Grazie a tutti!